La Coppa Primavera di Sportland Sul fine della prima frazione botta risposta sul calcio di punizione, ma più vicina la Spagna che sfiora l'1-1 col colpo di testa sul quale Mastroianni decide di non intervenire. Ad inizio ripresa Domenico Tedesco scalda i guanti del number one, poi oltre 10 minuti di solo pressing ad opera delle fure rosse che impegnano severamente Mastroianni. Ma sugli sprechi della Spagna il Galles trova l'energia giusta per indirizzare la partita a suo favore. Il tutto nasce ancora una volta da Ancon e dalla sinistra, Di Rago spuca sul secondo palo e fa 2-0. Il raddoppio che manda in tilt agli spagnoli che soccomano a 10 della fine sull'errore madornale del portiere che regala a Mastroianni la gioia della doppietta. Il number one che si ripete sull'ennesimo corner della gara è complice anche l'ha sfortunato Flipper, manda il Galles sul 4-0. La firma è in T tedesco. Galles che vince e convince e stacca il team. Semifinale. Abbiamo qua i due portieri di questa sfida bagnata, sfida fortunata per Trezzano e Galles. Abbiamo qui Savoia, ciao. Ciao. Qua invece abbiamo Pirano, ahimè sconfitta 4-0, è giocata anche fuori. Ha fatto anche lo scorpione. Insomma, volevi invitare Ibra. Sì, purtroppo lo scorpione l'ho fatto a centrocampo, è andata male questa partita, abbiamo avuto parecchie defezioni all'ultimo secondo e non ci siamo presentati al meglio. Invece porta in violata, shootout e questo per un portiere è sempre una goduglia, quasi come per un'attaccata se ne ha una tripletta. Beh sì, porta in violata è sempre bella, però gran difesa mi ha fatto arrivare davvero pochi palloni. Adesso semifinale per voi, insomma, siete a più di metà dell'opera. Vediamo, dopo alla fine quattro partite che giochiamo insieme, siamo arrivati a un buon punto, una semifinale è una bella sfida. Avete tenuto bene fino a più o meno a metà, secondo te poi si è spinta la luce, come mai? Onestamente il nostro portiere, che non ero io, ha fatto tre cappelle una peggio dell'altra e ha chiuso la partita a favore loro. Eravamo già messi male per parecchie infortuni anche durante la partita. Ah, è andata così, ci rivediamo già lunedì con la Summer Cup. Bene, allora vinci a voi appuntamento con la semifinale per Tezzano Gales, complimenti. Ciao.